salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi andremo a donare i dorsali ragazzi partiamo con la latte machine ovviamente partiamo sempre con lo stesso peso perché qui non riusciamo proprio ad aumentare partiamo sempre con 14 24 34 kg e 44 kg 4 serie per 20 10 20 15 10 e 5 ripetizioni ovviamente ragazzi prima ci andremo a pesare e ci vediamo direttamente con l'esercizio ragazzi 58.60 kg bassa grassa 12,4 grazie a tutti 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 il prossimo esercizio che è il pull lay se non sbaglio faremo tre serie per 10 sembra 8 8 10 ripetizioni comunque il peso rimarrà di 36 kg aumentiamo di 2 kg anche qua ragazzi prima ho aumentato di 2 kg ma non passa a 36 ma bensì a 38 perché 36 già c'era prima serie del pull lay fatto ovviamente bel peso giusto né troppo pesante né troppo leggero ovviamente settimana prossima proveremo ad aumentare di nuovo sempre che io me lo ricordo vabbè sono dettagli questi ragazzi ci vedremo con il prossimo esercizio che è il rematore presa inversa più super serie presa stretta ovviamente ne facciamo tre serie per 6 più 6 ragazzi aumenterò anche su questo esercizio facciamo da 34 a 38 kg ok prima serie ovviamente è fatta adesso come ultimo esercizio abbiamo lo stacco non da terra perché non ho i tappetini e rischia di spaccare mattonelle ma lo faremo qui ovviamente tutto basso comunque il coso come si chiama il poggio bilanieri tutto abbassato al massimo e ragazzi vi assicuro che comunque si sente nonostante non è proprio da terra però dai invece di fare 5 ripetizioni ne farò un po' di più mi esplode mi giuro che il bombario mi esplode ragazzi ci vediamo direttamente all'esercizio ragazzi provo una follia su questo bilanieri ci sono 90 kg ragazzi avete sentito bene 90 kg un totale di 90 kg proveremo a fare lo stacco io non so come intro a finire ragazzi nel dubbio ci salutiamo è stato un piacere per me fare i video per voi adesso però è arrivata la fine mi sa comunque a parte gli scherzi ragazzi proveremo vediamo come va a finire almeno una la voglio fare 90 kg ragazzi ragazzi un peso folle passare da 70 a 90 kg è una cosa da folle non riplicato la casa ragazzi io ce l'ho fatta ce l'ho fatta perché non avevo stacco da terra attenzione fosse stato quello 80 kg mi avrebbero distrutto figuriamoci 90 vabbè ragazzi ci vediamo con le spalle military press primo esercizio ovviamente dura ragazzi io adesso mi dovrò fare altre due serie con questo coso qui ci vediamo con la military press faremo tre serie per 15 10 e 5 ripetizioni ovviamente il peso è sempre lo stesso ovvero 18 28 38 e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, sono morto. È stata durissima, 5 ripetizioni completate però sono soddisfatto. Adesso faremo i frontali al cavo. 3 serie per 10 ripetizioni. Abbiamo fatto 4 kg la volta scorsa, sono sbagliati, adesso aumenteremo a 6 e ne faremo sempre 10. Ci vediamo l'esercizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, serie completata, io ne farò altre due e noi ci vediamo direttamente con i laterali, sempre al cavo basso, però con 4 kg. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.